Ehm, non so neanche come in questo sabato mattina triste Sono finito in un server di roleplay di Harry Potter in Gmod Allora, numero uno, che figata Numero due, come cazzo ci son finito qua dentro? Mi stavo veramente così tanto annoiando a casa Se in nuovo ritorni dopo un reset Vai nella Great Hall a sinistra per essere... Ah, per essere messo nelle classi Uh, tra l'altro il mio personaggio si chiama Umberto Smila Perché non ho fantasia Cosa vedo lì? No, che figo, no, che figo Ehm, oh mio dio Ok, allora andiamo a sinistra Usa un nome roleplay serio Ecco, infatti Wow, wow Salve Ma guarda lì che roba Ci sono anche le classi e ti dice anche dove andare Allora, premi è per essere ficcato nelle classi, va bene Oh, sta scegliendo, bellissimo Ravenclaw Ravenclaw Ok Dai, poteva andare peggio Poteva andare peggio Possiamo anche scegliere il personaggio Lo scelgo il più normale possibile Conferma Oh, c'ho già anche la bacchetta Magia corrente, nessuna Beh, ci stavo appena iniziato Devo ricordarmi solo con che tasto si parla Perché se non serve roleplay Qui si parla veramente tantissimo Allora, Ravenclaw Muggle studies classe 1 Come ci arrivo adesso in classe 1? Non so dove sto andando Ma perché c'è Gabe lì? Classe 1, 4 di qua Vado Tra l'altro 545 galloni Dovrebbe essere di qua Classe 4, no? Classe 1, 2, 3 Vado Devo anche fare in fretta Sono in ritardo Eccola Permesso Volevo sedermi Ma non so come ci si siede Stanno parlando Spennescere, Ravenclaw Lo voglio anch'io un gatto Guarda che bello che è Salve signorina Lei è nuova? No, quinto anno No, direi di no Mi sa che devo stare in classe Finché non scade il tempo E poi ti dà Credo dell'esperienza Sopra una barra dell'esperienza Al 7% per ora Siccome un server roleplay Non posso chiedere Con quale tasto ci si siede Perché è irrealistico Quindi come dovrei chiederlo? Eh, ma questo si è seduto nel mio posto Porca troia Lei la professoressa di astronomia Lui di Muggle studies Oh, è finita la lezione Bye bye Tra l'altro la lezione Non ve l'ho fatta sentire Perché Permesso Non ve l'ho fatta sentire Perché era molto lunga Ci ha spiegato perché I new yorkesi Dicono sempre Oh boy Nelle frasi È stato molto bello Adesso abbiamo Storia della magia A classe 1 Che culo Ello Eccola la professoressa Forse anche lei non si sa sedere Ma è lo stesso di prima Solo con un'altra skin Ma no Ma guarda che bello il gattino Oddio C'è da lavorare sulle animazioni Comunque Payday Hai ricevuto 45 dollari Oh Allava tus manos È la magia per lavarsi le mani Cosa vogliono fare Laggiù E li sta sgridando Li sta sgridando È la fine Ed è generata un attimo la classe Non so se state guardando Io glielo dico Lei ha una strana bacchetta Signorina Ma Giulie Ehi si è seduta sulla poltrona Della professoressa È finita anche questa lezione È stata tragica questa Non sapevo assolutamente come insegnare Bye bye È stata abbastanza tragica Perché è la prima volta che insegna È tipo il primo giorno E non sapeva cosa dire Adesso dobbiamo andare a Pozio Che cazzo Adesso dobbiamo andare a Pozioni Eccolo qua Solo prefetti e insegnanti Oh Sono curioso No Mi hanno chiuso fuori Permesso Grazie È tornato Garrett No Sono troppo contento Tra l'altro la stanza è esattamente quella di Pozioni Signorina Veronica Lei è seduta sopra una pentola però Stanno sparando delle magie qui C'è uno studente che sta picchiando il professore Cosa sta succedendo Per l'amor di Dio Questo è il tavolo delle Pozioni Si possono costruire le cose Proviamo a fare la small healing potion Ah mi mancano gli ingredienti Dove li trovo? Porca troia che paura È sparita la professoressa È sparito Garrett Mi ha appena detto che è morto il professore Aspetta che forse è tornata C'è del casino Eccola qui È tornata sana e salva Sono contento Sta succedendo del casino Ci sono dei cadaveri a scuola Mio Dio Ho detto che andiamo Vuole farci fare una gita Dove ci sta portando Non avevo voglia di insegnare C'è veramente tantissima gente nel server Guarda c'è gente che vola con la scopa Cosa? Ma dai Poverina Porca tua poverino Anzi Stiamo andando a morire probabilmente Io non ne ho idea E credo che siamo stati appena cacciati Tutti quanti Dalla scuola Sperando che non ci cacciino di nuovo Mannaggia Tra l'altro sto guardando Ma non ho più la mia bacchetta Sei 1 classe 2 Eccola qua Mi sa che sono un po' in ritardo Eccoci Oh sorry Non sono in nessuna squadra Ecco perché Come mai No dai Ma porca troia Sei già nella casa dei Ravenclaw E quindi Perché non ho la mia roba Forse devo andare nel mio dormitorio a prenderla Non lo so Per sbaglio mi sono messo a giocare a scacchi No no Voglio Voglio uscire Eh ma non so cosa è successo Mi sa che sei buggato Mi serve aiuto Non c'è nessuno Eh è pure finita la lezione Oh la ragazza mi ha aiutato E sono diventato di nuovo un Ravenclaw Oh sono contento Sono contento Thank you very much Cosa cazzo sta succedendo laggiù? C'è un gigante Che sta Credo attaccando delle persone Che saltellano Non devo distrarmi Che sono in ritardo Permesso Questo sembra una classe Au Ma che stronzo Mi ha spinto fuori dalla fila Con una magia Ma sto pezzo di merda Ma guarda Oh Che dobbia Dove cazzo Dove cazzo è finito Ok Mi ha dato un libro Questa è una classe molto più seria Anche se lì stanno Vedo del Oh mio dio Ho imparato la magia del terzo anno Chiamato Renervate Ah ma non posso vederla Finché non raggiungo il terzo anno Ma porca troia Tra l'altro questo professore Sta insegnando per davvero L'etimologia della magia Che ci ha appena insegnato Dio santo Questo nero è un bullo Comunque L'ho visto Continua a sparare magie su tutti Austria Usa le sedie La lezione di oggi consiste Nel tenere fuori Uno di Hufflepuff Perché sta cercando Di entrare nella classe Fosse stato così Il mio liceo Guarda La sta facendo arrestare Guardalo Guardalo Quel cretino Ce la faremo iniziarla Sta cazzo di lezione Dai Oh Ci ha fatto uscire Grazie Thank you È tornato il gattino Ma salve Con Che Con svariati problemi Thank you Thank you very much Molto carini loro Molto carini C'è anche un professore Salve Ah c'è anche l'ospedale Oh Mi mettono un inquietudine Sti fantasmi Mamma mia Abbiamo Transfiguration Classe 1 Sembra interessante Ed è sempre la stessa classe Mannaggia Ah mi ha detto Tieni premuto Alte Premi Eh vabbè Eh vedi si è trasformato Bene Bene I'm Italian So I eat lasagne And spaghetti Of course And pizza Of course With meatballs You're from Italian Yes Adoro questo cazzo di serve Ma mi sa che c'è un infiltrato So